buongiorno a tutti e ben ritrovati nella rubrica caffè e mercati un saluto da samuele malano che vi augura un buon lunedì un buon inizio settimana settimana che sarà molto interessante come del resto tutte le settimane sui mercati finanziari non ci si annoia mai quest'oggi andremo a vedere un'analisi sullo petrolio dato che l'inverno è alle porte e questa materia prima l'oro nero potenzialmente potrebbe un po' dominare i vari palcoscenici finanziari in tutto il mondo quindi vediamo come possiamo sfruttare questa situazione e poi facciamo un breve check out sul tutte su tutte le altre su tutti gli altri eventi passo subito direttamente al grafico di kimura trading vi ricordo tra tra le cose che quest'oggi pomeriggio alle ore 18 questa sera ci sarà il webinar del lunedì con Giancarlo Prisco e Riccardo Zago quindi un ottimo appuntamento anche per avere un output di mercato un po' più macroeconomico ricordiamo che Giancarlo Prisco oltre a essere uno scalper professionista fa anche e anche un economo infatti nell'appuntamento di in linea con l'economista su investire.biz abbiamo sempre degli spunti macroeconomici molto molto interessanti chiusa questa parentesi vediamo appunto il grafico del petrolio grafico del petrolio che è molto interessante perché perché abbiamo avuto appunto una forte un forte movimento rialzista partito dai 77 dollari al barile che si è concluso poco al di sopra comunque in area dei 94 dollari al barile ma la cosa veramente interessante l'aspetto veramente interessante è che è stato infranto il massimo precedente questo massimo qui diciamo che il disegno non è tanto bello però possiamo disegnarlo con un rettangolo che così si vede anche meglio questo massimo qui è stato infranto vedete proprio che le candele ci sono andate al di sopra e la rottura di questo massimo potenzialmente va a sancire la conclusione del trend ribassista e l'inizio potenzialmente di un trend rialzista perché perché i massimi non sono più decrescenti ma questo è crescente nel caso dovessimo trovare un area supportiva in prossimità degli 84 85 86 dollari al barile andremmo a creare un minimo più alto del precedente quindi rispetto a questo e quindi avremmo una conferma vera e propria della rottura del trend ribassista e quindi ci si aspetta che il trend possa iniziare a crescere nel caso non dovesse rompere questo massimo di periodo qui dei 94 dollari potremmo avere una situazione di stallo sul sul mercato del petrolio e quindi avere un mercato in range con massimi 94 minimi a 76 cioè un'area molto molto ampia però che potremmo avere appunto un una lateralità per diverso tempo dal punto di vista macroeconomico ovviamente abbiamo il taglio dell'opec che ha ridotto la l'offerta di due milioni al barile al giorno l'inverno alle porte che comunque richiede la domanda di dell'uso del petrolio aumenta anche proprio guardando la stagionalità durante l'inverno c'è una domanda ulteriore e quindi ci si aspetta che il taglio da una parte e una maggior domanda dall'altra vada per forza di cose a innescare una rally rialzista sul mercato del petrolio e possa portare di nuovo i corsi in area dei 100 dollari quindi questo sicuramente interessante scendendo più nell'atto pratico nell'atto operativo passando appunto da un time frame ad h1 l'h4 non ha troppi troppi spunti vediamo appunto come siamo entrati in posizione alla rottura rialzo del breakout channel e potremmo aspettarci un forte movimento rialzista di nuovo in quest'area qui quindi dei 90 89 dollari al barile l'area è molto vasta e molto non presenta particolari scogli da da oltrepassare nel caso dovesse essere riassorbita si possono vedere di nuovi aree delle nuove aree supportive sotto gli 85 dollari al barile questa è la mia operazione 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 che si può anche fare fare in scalping potenzialmente questo è un ottimo è un ottimo asset asset preferito per lo scalping sono gli indici che infatti vi ricordo che domani alle ore 15 15 15 ci sarà insieme a giancarlo prisco la scalping live una delle ultime scalping live del di quest'anno e appunto si andrà ad analizzare durante appunto l'apertura americana e il i movimenti i movimenti rialzisti principalmente si usa s&p e nasdaq è un ottimo un ottimo momento per vedere all'opera un trader molto molto professionale che fa questo di lavoro quindi è un'ottima opportunità ad esempio sicuramente questa mattina poi chiederemo a giancarlo prisco durante il webinar del lunedì potenzialmente qua abbiamo avuto una vendita perché di solito quando si creano queste conferma conformazioni giancarlo opera anche se siamo nella seduta mattutina quindi il l'indice di riferimento è il dax tolta questa parentesi vi vi invito a discutere appunto insieme della dell'operazione sul petrolio ci vediamo questa sera al webinar del lunedì domani alla scalping live con giancarlo prisco e poi ci saranno tutti i vari altri appuntamenti con investire.piz ragazzi per per oggi è tutto ci vediamo vi auguro un buon trading una buona operazione sul petrolio e ci vediamo nei prossimi giorni ciao a tutti